Mentre ci prepariamo per meditare insieme, per un momento consideriamo il pensiero centrante di oggi. Il Divino Femminile mi porta pace e guarigione. Il Divino Femminile mi porta pace e guarigione. Ora prepariamoci per la meditazione. Per favore, trova una posizione confortevole e chiudi gli occhi. Comincia a essere consapevole del tuo respiro e solo respira lentamente e profondamente. Con ogni respiro permetti a te stesso di diventare sempre più profondamente rilassato. Ora, gentilmente, introduci il mantra. Om Shanti Questo mantra significa che la mia natura è in essenza pace e totalità. Per trovare guarigione ed equilibrio in tutti gli aspetti della vita, abbiamo solo bisogno di connetterci al nostro vero Sé, il nostro amorevole, pacifico, integro Sé.